Sequestro nel bergamasco di 130 kg di ascisce, conseguente arresto di due trafficanti marocchini. L'operazione è stata portata a compimento dagli uomini della Guardia di Finanza di Venezia. L'epilogo di mesi di indagine durante i quali i finanzieri sono riusciti a scoprire un canale di approvvigionamento della droga che veniva dall'estero in quantità consistenti tali da saturare il mercato aerobico. Utilizzando le più avanzate tecnologie anche di localizzazione satellitare, le indagini hanno permesso di individuare, abbonate sotto, un garage adibito a deposito dello stupefacente. È stato durante la partenza di un fattorino per effettuare una consegna a bordo della sua auto che le fiamme gialle sono intervenute bloccandolo. Inizialmente il corriere pareva intenzionato a fermarsi ma prontamente pigiava il piede sull'acceleratore generando un inseguimento che richiedeva l'intervento di un elicottero dal corpo della sezione aerea di Varese conclusosi dopo pochi chilometri presso un appartamento di Osio Sotto. Dall'auto venivano recuperati 5 kg di stupefacente che sommati agli altri 125 kg rinvenuti dai finanzieri nel garage deposito hanno portato a sequestro di circa 130 kg di asciscia. I due sono stati associati alla casa circondariale di Bergamo a disposizione dell'autorità giudiziaria.